Domani all'Aquila si vota dalle 7 alle 23 per scegliere il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Sono 59.828 gli eventi diritto al voto, 30.674 donne e 29.154 uomini, un numero un po' più basso invece degli eventi diritto che possono votare anche cinque referendum. Sul territorio comunale dell'Aquila saranno dislocati ben 81 seggi, tre sono i seggi speciali per consentire il voto alle persone ricoverate ai detenuti oltre ai seggi volanti per chi è in area covid. 14 sono invece le sezioni fruibili per le persone con disabilità, sparsi un po' ovunque su tutto il territorio comunale. Come ad ogni tornata elettorale ci sono le raccomandazioni per chi ha smarrito la propria tessera elettorale o per chi ha completato lo spazio dei timbri. Queste dovranno richiederne una nuova negli uffici comunali di via Roma. A tutte le elezioni ci sono delle aperture ovviamente straordinarie. Dalle 9 alle 18 di oggi il servizio di rilascio operativo. Domani lo sarà per tutto il giorno cioè dalle 7 alle 23 orario dei seggi. Gli orari saranno uguali per il rilascio delle carte d'identità e saranno attive anche le due delegazioni di Sassa dalle 7 alle 15 domani e di Paganica dalle 8 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 20 per le carte d'identità elettroniche e l'eventuale attestato sostitutivo per poter votare. In questo modo saranno così coperte sia la zona ovest che est. Anche gli elettori col covid in isolamento impossibilitati a recarsi alle urne potranno votare e presentare richiesta alla ASL entro le 7 di domani mattina allegando tutti i certificati necessari che certificano appunto la loro condizione di impossibilità. Il comune mette a disposizione anche un software specifico elaborato dalla sua partecipata il SED per avere l'esito degli scrutini collegandosi all'indirizzo http elezionicomunelaquila.it ci si potrà collegare a questo indirizzo anche con il proprio smartphone per avere tutti i risultati.